Sulle trivelle in Adriatico, le regioni che si affacciano sul mare lavorano all'ipotesi del referendum. Troppo forte, dicono i cittadini, che ora godono anche dell'appoggio dei governatori, l'impatto con l'ambiente. L'attacco delle società petrolifere al fondo del mare, le cui autorizzazioni a perforare sono insite nel cosiddetto decreto sblocca Italia, è fronteggiato dunque da istituzioni e popolazione. Il rischio permane, ma ora, dopo le richieste di cercare fonti energetiche a qualche miglio dalla costa, si affaccia un nuovo pericolo, quello delle perforazioni sulla terraferma. Lo hanno lanciato anche questa volta le associazioni ambientaliste e anche questa volta il Molise non è immune dalla mappa dei siti possibili. Lo è una zona già in passato oggetto di studi, quella a ridosso del Matese, nella provincia di Campobasso, che comprende i comuni di Mirabello, Ferrazzano, San Giuliano del Sannio, Campo di Pietra, Gildone, Vinchiaturo, Cerce Piccola e Cerce Maggiore. Quest'ultimo comune oltretutto, già negli anni 70, sito di interesse di compagnie petrolifere che scavarono, e poi non si sa cosa ci lasciarono, pozzi profondissimi. Una vicenda che si trascina ancora oggi dopo denunce e inchieste per il momento rimaste troppo a lungo sulle scrivanie dei procuratori. Nel nuovo caso ci sono richieste di ispezioni sismiche nel sottosuolo, in un'area di 87 chilometri quadrati, che comprende gli otto comuni citati. Le società che hanno chiesto di effettuare i rilievi ipotizzano la presenza di giacimenti molto ricchi. Per individuarli nelle zone pianeggianti vengono utilizzate le cosiddette camionette vibranti, le Vibro 6, mentre nelle zone sconnesse, nei boschi e in parti di difficile accesso, viene impiegato l'esplosivo. Il coordinamento Trivelle Zero del Molise ha già invitato i cittadini all'incontro in programma martedì a Campobasso, dalla sala consigliare di Palazzo San Giorgio, comincerà una nuova lunga battaglia a difesa del territorio.